Non è un compromesso, sono norme di buonsenso che abbiamo colto nel testo della Lega. Alcune cose per noi non potevano esserci come il subapalto al 100% o le offerte economicamente vantaggiose con il limite del prezzo al 49%. Quindi sono cose che sono uscite dal testo. Noi abbiamo tutelato il lavoro fatto in commissione, avevamo tantissimi emendamenti di commissione approvati e li abbiamo reinseriti nel testo. In più abbiamo colto alcune delle proposte della Lega che oggettivamente andavano a risolvere ulteriori problemi di applicazione del codice. Penso alla questione dei commissari dell'Alboanac che non è chiuso e che quindi creano dei problemi alle stazioni appaltanti. Per cui abbiamo trovato non un compromesso ma abbiamo messo assieme le parti migliori dei testi che avevamo a disposizione.